Ciao, volevo mostrarvi un modo col quale a volte può essere più semplice mettere diciamo delle cerniere agli oggetti per poterli muovere che non sia complesso quanto fare un rig come si chiama vero e proprio. Per spiegarmi meglio immaginiamo che questo sia un computer portatile nel quale vogliamo aprire lo sportello in questo senso diciamo ma in modo più semplice. La cosa migliore è sfruttare il fatto che quando io scelgo ruota in blender noi ruotiamo sempre attorno al centro dell'oggetto vedete e ruota rispetto alla vista poi se io invece premo x lo obbligo a ruotare sull'asse x y a ruotare sull'asse y però vedete che il centro di rotazione è sempre quel punto arancione posso cambiarlo a mio vantaggio cioè se questo fosse il coperchio di un laptop vorrei che girasse qui dove magari c'è la cerniera quindi cosa devo fare devo spostare il centro qua giù uno dei modi più semplici è utilizzare il cursore questo cursore qua si sposta semplicemente facendo maiuscolo tasto destro vedete si sposta e rimane aderente alla superficie sulla quale avete cliccato se cliccate dove non c'è alcuna superficie non è del tutto prevedibile dove va a finire la cosa importante comunque è che se voi vi trovate in una visuale ortografica quindi per esempio dall'alto e poi ogni volta che lo spostate mantiene guardate adesso l'ho appoggiato lì che è sopra torno dall'alto lo sposto qua fuori e vedete mantiene la sua posizione verticale quindi nelle viste ortografiche da davanti l'ho sposto è rimasto lì dove era siete sicuri che non cambia quella dimensione che voi non riuscita a vedere nella vista ortografica a meno ovviamente di fare maiuscolo clic su una superficie e allora viene appoggiato alla superficie un altro modo per spostare il cursore e usare il menù di maiuscolo s il menù maiuscolo s permette di spostare un po il cursore quindi per esempio cursor to world origin se lo riporta all'origine degli assi se lo avessi spostato per esempio qui maiuscolo s cursor to grid lo sposta al primo incrocio della griglia più vicino la griglia questa qua che vediamo per terra oppure come in questo caso che ho un oggetto selezionato scegliendo cursor to selected il cursore viene spostato al centro geometrico dell'oggetto che ho scelto che è per esempio in questo caso il cubo superiore se io scegliessi il cubo inferiore maiuscolo s cursor to selected viene spostato al centro dell'oggetto inferiore come posso usare questa caratteristica se io seleziono il cubo superiore vado in edit mode con il tab con la selezione dei bordi se io seleziono solo questo bordo premendo maiuscolo s cursor to selected il cursore viene messo esattamente qui al centro dell'unico segmento che ho selezionato quindi dipende dalla selezione che faccio se io avessi scelto l'intera faccia maiuscolo s cursor to selected viene messo al centro della faccia quindi tornando al nostro bordo maiuscolo s cursor to selected mi ritrovo lì il cursore se esco dall'edit mode quello che posso fare adesso facendo tasto destro sull'oggetto è questo set origin origin to 3d cursor ed ecco che l'origine del mio oggetto viene spostata lì quindi d'ora in poi se io faccio ruota il ruota avviene attorno a quel punto lì e se blocco l'asse x ecco che ho ottenuto quello che volevo quindi ruota x riesco a aprire chiudere questa porta come desidero per oggetti statici può andar bene anche per fare un rigging vi faccio un esempio ricomincio da una scena vuota e approfitto di questa funzione nuova di blender che avevo già mostrato in un altro video potete andare a vederlo che ad primitives che può essere utile per creare degli oggetti molto semplicemente è il caso di utilizzare che eviti e anche le ombre in modo che quando poi creo qualcosa riesco a vedere più facilmente cosa ho fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora ho creato questi semplici arti e una testa di robottino magari questa testa adesso seleziono tutti gli elementi e la unisco con ctrl j in maniera che sia un oggetto unico il suo centro si trova sul sul centro dell'oggetto creativo quando ho fatto l'unione guardate questa sfera a questo centro questo a quell'altro se io seleziono questi oggetti e per ultima la sfera e faccio un'unione con ctrl j il centro vedete che rimane sulla sfera e quindi per esempio questo oggetto se faccio r adesso ruota sulla sfera questo oggetto al centro qui e anche questo ma io voglio invece che si muova rispetto a quest'altro punto di giunzione devo semplicemente andare in edit mode selezionare le facce che mi permettono di spostare con maiuscolo s cursor to selected il cursore al centro di quello che mi interessa uscire tasto destro origin to free di cursor ed ecco che l'origine adesso si trova qui e quindi se io faccio ruota ecco che ruota lì stessa cosa di qua seleziono queste due facce maiuscolo s cursor to selected set origin origin to free di cursor questo può diventare parte di quest'altro oggetto di nuovo con ctrl j è diventato un unico oggetto ora col parenting quindi seleziono prima l'oggetto figlio e poi l'oggetto padre e premo ctrl p e scelgo la prima opzione object che succede che adesso l'oggetto padre quando si sposta si porta dietro l'oggetto figlio prendo quest'altro contro il p object quindi da questo momento in poi se io ruoto questo ecco che si porta dietro anche queste due specie di pinzette se faccio lo stesso ragionamento qua quindi unisco questi contro il j verifico che il centro si trovi dove voglio unisco questi contro il j con il centro lì poi se il centro non è nel posto giusto contro j state un attimo a spostarlo voi però adesso qui contro il p object questo con questo contro il p object ed ecco che ho creato la catena e quindi se mi metto dall'alto e ruoto questi funzionano effettivamente come dei giunti in modo molto naturale e facile da fare quindi ora posso selezionare tutto quanto ruoto sulle x di 90 gradi ruoto vedete che tra l'altro la rotazione adesso so dove avviene e quindi è tutto molto più facile da gestire lo porto magari qui mi viene in mente adesso qua che magari può essere più carino come tipo di giunzione faccio un duplicato di questa sfera poi faccio p selection la porto fuori e la porto qui scalo vedete che questa sfera adesso al centro nel posto sbagliato tasto destro set origin origin to geometry serve velocemente a spostare il centro al centro della geometria che essendo una sfera e al centro della sfera magari è un po più carino se quale aggiunzione la faccio in questo modo è solo un esempio e come vi ho detto è qualcosa che si presta per oggetti come appunto dei robot ora seleziono questi due unisco questo con questo contro j ho perso i figli quindi per un attimo vado a tirar via al parenting quindi devo fare alt p e faccio clear parent and keep transformation per restate dove siete ora qui posso fare di nuovo contro j e unirli e ora posso rifare il parenting e quindi contro il p object contro il p object ed ecco che ho ricostruito di nuovo la catena seleziono tutti quanti questi oggetti li duplico ruoto di 180 gradi e li porto qui magari adesso li ruoto di 30 gradi li ruoto ancora di 30 gradi adesso li duplico e li ruoto di 60 gradi li duplico e li ruoto di 60 gradi ed ecco che ho posizionato le sei zampe del robottino questi altri oggetti li sposto al loro posto facciamo così li metto qua sotto che possono essere anche più carini come vedete la rotazione è naturale perché avviene rispetto al centro che io ho deciso l'oggetto si muove in maniera più naturale anche qua per esempio potrei andare a separare tutti questi oggetti p selection e adesso questi faccio un nuovo parenting però prima devo annullare quello precedente quindi alt p clear parent and keep transformation control p object questo ha il centro fuori posto qua tra l'altro posso usare set origin origin to geometry questo con questo control p object ed ecco che ruotando questo ruotano anche le mie pinze ed ecco quindi che adesso ho un robottino che è costituito da diversi oggetti e li posso anche tutti mettere in una collection o qualcosa del genere comunque si muove per intero tutto insieme ma se io rispetto la gerarchia degli oggetti posso facilmente ottenere delle posizioni diverse per gli arti con semplicità perché ho messo la rotazione nel posto giusto posso anche forzare alla rotazione sulla base di assi e cose del genere tra l'altro ci sono anche gli assi locali se io adesso ruoto sull'asse y viene bloccato questo asse y globale che mi va bene per questo ma per questo che è già ruotato se io scegliessi per esempio in quest'arto ruota y come vedete non si ruota rispetto al suo asse potrebbe essere in questo caso utile premendo virgola sulla tastiera scegliere gli assi se invece di global io scelgo local adesso quando faccio ruota e scelgo y come vedete è un asse y locale non è quello che cerco non è questo qua è quello z in questo caso dipende un po da come l'ho costruito all'inizio comunque una volta trovato qual è l'asse giusto riusciamo in questo caso appunto è z eventualmente a bloccarci anche su un asse che non corrisponde a quello degli assi generali ovviamente questo essendo un metodo molto pratico e veloce io lo uso proprio in situazioni come questa dove non mi interessa la precisione ma mi interessa semplicemente riuscire a fare delle modifiche veloci ammettendo di avere per esempio un altro robottino qui ho dimenticato una zampina eccola non duplicatelo in questo modo come ho appena fatto perché altrimenti la seconda zampina si ricorda il parenting con la prima però vedete in questo modo in una seconda variante posso andare a creare facilmente una posa diversa correggerla un pochettino è molto facile perché la gerarchia viene rispettata quindi anche se ruoto ecco vedete la testa ho dimenticato di parentarla ma è sufficiente selezionare tutti i figli prima la testa per ultima control p object e adesso se io prendo la testa e la ruoto come vedete si ruota tutto quanto è un metodo molto grezzo però efficacissimo rispetto a creare un rig se non avete tanta dimestichezza con il rig poi comunque riga volte in cose davvero veloci da anche fastidio da vedere sullo schermo ci sono alcune occasioni nelle quali io posso preferire una soluzione del genere che è molto veloce e adatta a oggetti di questo tipo in cui non ci deve essere alcuna deformazione ma il meccanismo di rotazione lascia ogni arto diciamo esattamente uguale a se stesso quindi questo è il metodo di rigging più semplice non è neanche un vero rigging è solo appunto un sistema di parenting e di origini però permette facilmente negli oggetti semplici aprire una porta avere una scatola uno scrigno con l'apertura appunto un'automobile la portiera di un'automobile tutte queste piccole cose in cui non vale la pena costruire un rig possono essere più facilmente risolte mettendo al posto giusto le origini degli oggetti e poi creando un parenting in maniera che la rotazione di un singolo oggetto si possa portare dietro anche tutto il resto spero che possa essere stato utile grazie mille e alla prossima occasione